Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su JoshMed. Nello scorso episodio abbiamo fatto un appuntamento romantico con Sana, che è andato meglio rispetto all'ultima volta, e soprattutto siamo andati avanti con la storia principale. Kim, brutte notizie Gamisan, uno dei leader della banda Kehin ti sta cercando e ha portato i suoi amici. Alla fine si sono stancati di aspettarti, così hanno deciso di picchiare chiunque capitasse a tiro. Ti prego fermo a questa inutile violenza. E cazzo andiamo, leader della banda Kehin. Quando il livello di minaccia raggiunge il limite, non solo troverai in giro un numero assurdo di membri della banda Kehin, ma da qualche parte spunteranno anche il loro leader. Al fine di ridurre il livello di minaccia, dovrai sconfiggere il leader o aspettare. Se riesci a sconfiggereli riceverai una ricompensa da qualche cittadino particolarmente grato. Minaccia 100%, eccola lì. Ci ha avvisato Kim perché è davanti al suo negozio. E io direi di andare. a eliminarlo il prima possibile. Ah, non è davanti al suo negozio. Honda. Che è quello che ci ha sfilato l'ultima volta. Ciao. Ok. Vediamo un pochino. Range Honda, eh. Invece il 98%. In realtà... Mi servirebbe più attacco. Perché mi fa malino a lui. Vediamo. questi alla fine sono serviti prendiamo stanno già servendo a qualcosa quindi tu sei pericolato solamente quando ti potenzi quando si potenzia quando si potenzia minkà mi ha fatto malissimo sai cosa ti dico? stanno mi niente vediamo una bella botta è già finita attenzione cazzo che dolore mangiamoci codici bonus questo mi fotte attacchi lettali attacchi lettali ora 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 mi sta facendo malissimo no devo curarmi perché questo mi ammazza con quella minciotta Se ho poca vita Sto stronzo Adesso vola Ok Mi ha fatto sprecare tutti gli oggetti Devo andare a recuperare un po' di roba Wow Che fatica Minaccia 46% Ehm Come siamo messi Ok Minaccia è ancora molto alta Bam Ci è passata anche una povera Bicicletta Ora Abbiamo trovato le sue informazioni Eccoci qua Vediamo se Ciao Speriamo bene La minaccia sta scendendo Prendiamo tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La famato Quindi se faccio così Mi guadagno la famato Se prendo tutto No? 3,4,5,6,7 No perché non ho ancora sbloccato il menu segreto Sicuramente per quello Ok Andiamo al poppo Ci recuperiamo un po' di oggetti Che ci ha fatto finire tutto Quel criminale Criminoso Ciao Allora Sono questi Sono questi Taurina Toughness Staminian U-Bomb Un po' di Sigarette che non si sa mai Che mi servono per fare qualche missione Ok 60.000 yen Vuoi non dire che non spendo mai i soldi da voi Qua cosa c'è? Chi c'è qua? Uno nuovo In terra Ok Intervieni Abbiamo avuto anche un messaggio Adesso appena battiamo questo Sfidiamo quello lì Dal Kansai Lo prendo No attenzione Allora Quindi Che sei Quissà Chi sei? Kazufumi Kamaguchi Certo me lo ricorderò sicuramente Possiamo aiutarti a recuperare dei credit, quindi? 800.000 yen ciascuno Eh già Potrei Già Vabbè non ci vediamo Mi sa che uno è già qua giù Se non si è abbassato il livello Misera la banda, sì Eccoci qua Ah, sei quello scarso quindi Che sai Devi soldi eh Vediamo quanto è forte Credo molto meno forte di Quello gigantesco Vieni qua Attenzione Boom Solta un bel po' Vai forza Vedete le tali? Anche tu No tu sei quello che fa le combo vero Mi ricordo che avevi già Sfidato E mi avevi già dato le balle Ok Ci siamo quasi Se lo battiamo possiamo anche recuperare Il credit di quel deficiente Via Vediamo se funziona Je basta При Oh Oh io ti consiglio di pagare mi da una percentuale un po' un cazzo Kim, è bello arrivare alla nostra città al sicuro c'è qualcosa che ti aspetta nella tua cassetta delle spedizioni appena fuori dal tuo ufficio abbiamo sentito tutta la necessità di ringraziarti per quanto hai fatto per noi uh, grazie vediamo, messaggi sana sì vi è importunata? è venuto al mio concerto ma pare che abbia ancora tanti sospetti su me e te si vede che sembravamo una bella coppia oh cielo cosa è quella faccina? ogni modo fammi sapere se cabata santi da ancora noi tieni gli occhi aperti e voi? ok ah, aveva lo stesso ufficio che aveva come si chiama? hachiamashum ora vediamo un pochino qua la tizia non è ancora arrivata vero? ancora in pausa chissà forse devo andare avanti nella missione devo trovare qualcuno che devo portarle un altro cliente comunque vediamo un pochino qua c'è altra roba da fare io direi di fare le cose più importanti fare le amicizie perché ci danno casi non posso? troppo presto allora andiamo a farci l'amicizia della caffetteria entrambe direi anche caffetteria e hotel l'hotel è dall'altra parte vabbè facciamo questa bam 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 ok non ho speso niente dovrei aver fatto anche la missione della della torta ok perfetto quindi ci sarà una torta extra la prossima volta che vengo qua vediamo un pochino ci manca un'ultima torta e quella l'abbiamo finito ora vediamo se riusciamo a fare questo al caffè no non è al caffè si è al caffè caffè migliore si attenzion ma da chi mi ho preso tutto a proposito siamo venuti a mangiare bene da te non possiamo mangiare da te non ci vogliono più bene come un tempo saliamo vediamo come è andato questo questo appuntamento all'acquario è contentissimo ok 20 ah si lo proviamo subito in un segreto non c'è nulla mi stai imbrogliando va bene capisco capisco che sono stato imbrogliato eccola qua ciao potremmo vederci ancora devo dirti una cosa c'è qualcosa che non va? no diciamo che ho bisogno di capire come mi sento sei libero ora? si certo ok ho ancora un regalo in realtà dato che è una ragazza semplice possiamo sfruttare quello parabarabarabam parabarabam volcanic volcano ciao stavo usando una parrucca va bene tieni l'anello con i cuorecini ok ma direi frecciate anche se poi l'ufocacher non ci siamo andati quindi sono proprio una merda frecciate quindi potrebbe benissimo abbattermi grazie grazie no cazzo no merda ha fatto schifissimo è brava ok 50 punti avanti che lei dame da me da me da me da me da me No! Stop! Io devi andare sul sicuro nei ball sul sicuro poi se sbaglio sbaglio purtroppo non ho la precisione del mouse ero bravissimo inchiwami qua per cosa va il mouse si muoveva molto meno Merda no eh vabbè mettiamo un centinaio di punti meno in più avanti se fa 200 abbiamo perso vabbè dai ce la siamo giocata abbastanza no ok e tu penso il completo come stai? ok eh sì sì addirittura il suo travestimento i tuoi soliti capelli sono meglio dai chi le piace? hai finta di conoscerlo? ok ok scatta una foto come sempre bellina questa fermiamo la conversazione ok ok aia ovviamente noi non sappiamo non sospettiamo nulla non si aspettano di noi dovelo di confidenza 4 ciao ancora un nuovo messaggio subito eh eh namorata non si può sapere ancora non si può sapere ancora non te lo dice per messaggio non si è molto sveglio eh va bene vediamo sono quest'ultima torta ciao 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 no come non detto e questo Perfetto Ah c'è anche il ninja Ecco cos'erano quelle esplosioni Questo l'ho completato, vero? No Mancava questo Perfetto Assetato Conquista Gineco Tavern, ok? Perché no? Quanto mi serviva E ora direi anche di andare a fare Possiamo provare a tornare qui Adressano l'equipaggiamento Cosa ci facciamo un nuovo amico Anzi no dai Completiamo questo Cioè facciamo la missione principale dai Bartender Tutti qui eh? Adressano Adressano Ehm Già Non ha tutti i torti eh Sì, questo l'abbiamo capito Sì, questo è stato fatto Vediamo se riusciamo a beccare. Quindi, perché il clan Chiorea è arrivato fino a Kamurocho? Beh, sì, qui, sì. Eh, molto inferiore, allora. Qualcuno che gli dà altri ordini? Ok. Tutto attorno Non si sarebbero mai spinti Senza un adeguato supporto finanziario Oh beh lo scopo Sopriamo C'è stato un bel po' di informazioni Come ha raggiunto la famiglia di Amazugane? Sì Dimmi E come c'è finito? Come ci si sente Essere chiamati polizioto corrotto? Quindi non possono giudicare Onesto Devo andare Abbiamo Ho ottenuto tutte le informazioni che ci servivano Sì Cazzo Speriamo che non lo becchi Eh bravo Non sono stato io Eh beh Non vi ammanta Sì Si Eh già No Non è stato lui l'assassino Con la smorfietta Ci sta provocando Si Tutto a posto Sì Tutto a posto Sì Dove Dove mandare a investigare? Hm? Perché? Non No Cazzo Noi non conoscono i miei amici, ma non conoscono i miei amici. Ma io... Come si chiama i miei amici? Hm... Noi non conoscono i miei amici. Possiamo chiedere a lui, sì. Bene, raggiungi la KJR. Posso fare ben poco finché sono con... Con Kaito. Mi sto incastrando qua. No. Perfetto. E qua. Ok. Ok. Come sempre il nostro spot preferito per usare il drone. Ok. Prendiamo fuori il drone. Adesso mi faccio un selfie con Kaito. fotocamera. No. Scusatemi. Drone. C'è un bel po' di vento. Eh, che palle. Vabbè. Ha funzionato comunque. C'era un bel po' di vento, ma... Siamo riusciti? Un bel po' di vento... Perchè? Beh... ebbè ovviamente ma noi non siamo del clan tojo meno male allora che non siamo del tojo chi è quello? è quello di cui stavano parlando? è quello che stai buona ha chi è un corpo? è il padre del socio è un ciao è il tuo figlio lì è un figlio l'altro è un figlio l'altro numero 2 Sì uh ci aiuta il joker, non male 3 contro tutti eh capitano del clan Kyurei, ah lo sfidiamo proprio adesso, combatte anche lui eh un tantino eccessivo, ma va bene perché non lo chiamano joker se sappiamo che si chiama così? va bene anche uomo mascherato per carità però ok spacchiamo la schiena anche a lui e adesso che siamo 3 contro 1 eh, non lo fai più lo sbruffano eh si potenzia? no, va a venire altra gente quello si è incastrato vieni qua io ballo oddio chi è stato un fumogeno? via bam non male ok c'è troppa gente in mezzo alle balle bravissimo bagati questo ok dimmi tutto beh sono rimasti solo in due questi erano danni letali si fa così si fa ok alla grande ciao 500 punti beh era un bel combattimento eh però 500 punti sono molti non credo verrà ci siamo fatti un altro nemico ci fa vedere chi è? beh si vedeva che era di bel aspetto comunque non male non male Siamo tornati qua Ma ci siamo partiti anche a Joker Non ce l'è capitano Ok Ladro riabilitato Ok Stavo leggendo ribaltato e ho detto no Non è così No racconta tutto mi raccomando Secondo me ci stava sorvegliando Racconta racconta Ah si? A quanto pare Non è che si dipendente dalla Kajira Che diventa un criminale? Ti hanno licenziato Ovvio Ah quindi hanno dato la colpa a te Così Si guardano tra il rancore Nei confronti del gruppo Beh se ci aiuta Comunque Tra virgolette giustizia Non c'è ...ma non è così. ... 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 è più grande di noi quindi lui in effetti non vuole essere complice si mette lui in contatto con noi ma ci dà il contatto va bene ragazzi noi ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo episodio sempre qui sul mio canale ciao a tutti